Sapete qual è la cosa che spaventa di più un narcisista? È consegnarsi nelle mani di un altro, è esporsi all'altro senza condizioni. Perché per il narcisista questa consegna di sé all'altro è una destabilizzazione, una destabilizzazione della sua fragile autostima. Infatti, non a caso, se il sentimento amoroso cresce, la relazione affettiva diventa per il narcisista un sovvertimento della sua stabilità precaria. Perciò, per ovviare a questo rischio, il narcisista imposta il suo stile di conquista e di seduzione sul possesso dell'altro. E questo perché il narcisista non è nelle condizioni di lasciarsi andare nelle braccia di un altro, perché ha paura. Ha paura di dissolversi tra le braccia di quest'altro. Per il narcisista l'amore non è una cosa tranquilla, è una cosa piena di paura. Per lui l'amore non è condivisione, ma è lacerazione, cioè il rischio di frammentazione psichica. Perciò cosa fa? Fugge, fugge l'amore. E si ferma sulla superficie. Quindi ad una conquista passeggero. Si mantiene in superficie perché non osa mettere in discussione i suoi stessi limiti interiori. E perciò non si concede. Piuttosto resiste a questo spiazzamento. Resiste alla rottura del suo guscio narcisistico, che viene quindi protetto ad oltranza, diventando un guscio impermeabile, un guscio refrattario ad ogni moto dell'anima e quindi ad ogni emozione. Il narcisista blocca sul nascere le emozioni e ricerca nell'altro soltanto se stesso. Si vuole solo rispecchiare. Infatti l'amore per lui è il culto della sua soggettività. È individualismo. Non a caso l'altro è un mezzo per l'accrescimento di se stesso. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online. Per richiedere una consulenza dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre vi informo che ho scritto 4 libri che si trovano soltanto su Amazon. Buon canale. Buon canale.